Buona giornata, spesso e volentieri abbiamo l'occasione del giudizio che fa parte di ognuno di noi, che siamo feriti da questa modalità di stare con gli altri, il giudizio. Molto spesso prima di giudicare possiamo anche chiederci un qualche cosa, che cosa sta passando l'altro? Noi non lo sappiamo, non sappiamo effettivamente che cosa è nella quotidianità, ma anche che sta passando nella testa di chi abbiamo accanto. Forse chiedendo avremmo occasione di giudicare meno o più occasione di tendergli la mano. Quanto e come possono cambiare i nostri legami attraverso questa piccola domanda, ma anche questo grande coraggio che possiamo utilizzare là dove siamo. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.